Credo che l'iniziativa sia molto positiva perché è importante che i ragazzi rientrino in sicurezza a scuola. Quindi io l'ho accettata con molta serenità e anzi molto contenta che il nostro sindaco abbia preso questa decisione. Due ragazzi, uno più piccolino e un altro più grande, uno frequenta la scuola a Pian Castagnaio e un altro fuori Pian Castagnaio. Ricordiamo uno screening dedicato comunque sia ai giovani, dai 0 ai 18 anni. Allora, come è stato preso sotto questo aspetto? I ragazzi, i suoi figlioli, come hanno risposto? I miei figli sono stati molto contenti perché vogliono tornare a scuola, hanno bisogno di tornare a scuola per stare in compagnia degli altri. E quindi subito si sono offerti per fare questo screening.